Quindi noi da un punto di vista democratico, con le armi della democrazia e con la pazienza, abbiamo fatto capire al governo che noi da una parte siamo per il no alle speculazioni, alle cricche, alla mala politica, alla mafia, però siamo per il sì. Ma Bagnoli la sblocca la città, in collaborazione con la regione e col governo, ma che nessuno pensi di fare i colpi di mano alla Lucania maniera o alla maniera di liturgie politiche che non appartengono alla città di Napoli, in questo momento storico.